9 novembre, una data pesante nella storia della Germania, diversi avvenimenti videro la luce proprio in questo giorno, dalla nascita della Repubblica di Weimar al tentato colpo di Stato di Hitler alla notte dei Cristalli e 29 anni fa crollava il muro di Berlino. Il corrispondente Rino Pellino. 9 novembre 1918, il leader comunista, Liebknecht e il socialdemocratico, Philipp Scheidemann, proclamano la Repubblica. Di schianto, quasi senza spargimenti di sangue, crolla a Berlino la monarchia dei Wittelsbach, degli Asburgo a Vienna. Una pietra miliare per la storia tedesca, ha detto oggi il Presidente della Repubblica, Steinmeier. Cento anni fa nacque una Repubblica parlamentare e democratica, la prima Costituzione a riconoscere il diritto di voto alle donne, ma era un equilibrio fragile. Un altro 9 novembre del 1923 fallisce il colpo di Stato tentato da Adolf Hitler a Monaco. Uscirà dal carcere, tornerà in sella, trascinerà il mondo nell'orrore, con un altro 9 novembre del 1938 a fare da spartiacque. La notte dei Cristalli, il saccheggio di sinagoghe, negozi, abitazioni di ebrei, segna l'inizio dello sterminio. Cominciano in quei giorni le deportazioni di massa verso i lager in Germania, verso i ghetti in Polonia. Dobbiamo di nuovo vigilare contro xenofobia, antisemitismo, odio, razziale, hanno ricordato Angela Merkel e il Presidente delle comunità ebraiche, Schuster. Sviluppi imprevedibili dopo l'ennesimo 9 novembre. Nel 1989 la caduta del muro di Berlino schiudeva scenari di libertà.